La Regione Toscana è pronta ad investire 15 milioni di euro per interventi di adeguamento e miglioramento antisismico in edifici scolastici e pubblici. Per quanto riguarda le scuole, la Regione ha presentato al Ministero dell'Istruzione un piano da 56 milioni per intervenire in 103 edifici. L'assessorato all'ambiente e quello dell'istruzione hanno lavorato in sinergia per la sicurezza degli studenti. I tecnici del settore sismica per esempio consultano il database dell'anagrafe di edilizia scolastica, direi quotidianamente, i contatti sono quotidiani, ma anche per l'uso integrato delle risorse finanziarie perché con i fondi della sismica si possono finanziare degli interventi, con quelli dell'edilizia scolastica spesso interventi complementari. A breve verrà invece pubblicata la graduatoria sugli edifici pubblici che sono stati ammessi al finanziamento da 15 milioni di euro. 8,7 milioni sono destinati a lavori in 13 scuole, di cui 6 a Firenze, 3 ad Arezzo e Lucca e 1 a Prato. I restanti 7 milioni sono invece destinati a 14 interventi in edifici pubblici non scolastici, 5 ad Arezzo, 2 a Lucca, Massa e Prato, 1 a Firenze, Pistoia e Siena. Gli edifici scolastici costituiscono la parte preponderante dei 15 milioni messi a disposizione, anche perché sono quegli edifici che oltre a dover assicurare una continuità di funzioni nel momento dell'evento, spesso sono anche edifici nei quali vengono costituiti i cocc comunali o comunque i presidi anche di gestione della fase emergenziale. L'iniziativa regionale di mappatura e pianificazione degli interventi è stata presa in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia tra agosto e ottobre 2016.